Contro la violenza di genere che molto spesso si manifesta tra le mura domestiche il centro servizi per la famiglia di Giulianova ha attivato anche un punto di ascolto antiviolenza. Un giorno alla settimana un operatore sarà a disposizione per raccogliere le testimonianze di chi in casa ma non solo è costretto a subire ogni forma di aggressione sia essa verbale sia essa fisica ma anche ogni forma di crudeltà subita a cominciare da quella psicologica. La presidente della Commissione Pari Opportunità di Giulianova, Marilena Andreani, plaude all'iniziativa. Questo è un segnale molto positivo per noi della Commissione Pari Opportunità che da anni ci battiamo per sensibilizzare le donne ad uscire dal silenzio e a denunciare quindi è positivo questo sportello e invitiamo chi si trova in difficoltà che subisce violenza a denunciare. Parliamo del territorio, questo è un territorio molto importante. Quanti casi voi avete segnalato? Con quanti casi siete venuti a contatto di violenza? Sinceramente molti casi, più di quelli che immaginiamo. Le donne che ci hanno contattato, che poi noi abbiamo invitato a rivolgersi al centro antiviolenza La Fenice, ma loro grazie alle nostre iniziative sul territorio, primo acchitto l'hanno avuto con noi. Guarda caso ci hanno chiesto aiuto l'8 marzo e il 25 novembre che sono due date molto importanti. Molti casi purtroppo, molti più di quello che immaginiamo. Violenza domestica soprattutto? Soprattutto violenza domestica, sì. Soprattutto violenza La Fenice